Un piccolo museo dedicato alla seconda guerra mondiale a Torpole è il desiderio dell'associazione culturale Benac che giovedì pomeriggio ha portato in piazza Litzman il colonnello Jeff Patton, responsabile dell'aeronautica statunitense, ora in pensione presso l'ambasciata a Roma. Patton si è appassionato alla vicenda del mezzo anfibio Dac, affondato a largo del corno di Bo il 30 aprile del 1945 e coltiva il sogno di recuperare i resti dei 25 comilitoni affogati 72 anni fa. Il relitto è stato scoperto nel dicembre del 2012 a 276 metri di profondità. La volontà di recuperarlo non manca ma si tratta di un'operazione problematica. Estrarlo dal fondale privo di ossigeno comporterebbe un deterioramento poiché l'ambiente anerobico contribuisce a mantenerlo intatto. L'interesse degli americani oggi non è tanto quello di riavere l'anfibio quanto di poter dare sepoltura alle spoglie dei soldati morti nel naufragio. Così come l'ambiente senza ossigeno protegge il mezzo potrebbe proteggere i corpi. Esiste quindi la possibilità di trovarli. Patton racconta poi di un elmetto scovato sul fondo. Vuoto naturalmente la sua teoria secondo cui i corpi potrebbero essere sepolti sotto il fango del fondale. Nel caso ci fossero le prove che i soldati scomparsi siano sul fondo del garda si immobiliterebbe subito la Joint Task Force Full Accounting, un ente con sede alle Hawaii che si occupa di recuperare ed identificare i militari statunitensi scomparsi in ogni guerra combattuta dagli USA. Se così fosse arriverebbe anche Discovery Channel pronto a girare un documentario sulla storia del duck. Le ricerche sono ferme ma l'associazione culturale tiene alta l'attenzione sulla storia locale e Miorelli propone. Sarebbe bello ospitare a Torbole un piccolo museo della seconda guerra mondiale in collaborazione con il museo della guerra di Rovereto. Seguendo l'esempio di Torri del Benaco che con una piccola esposizione sugli ultimi giorni di conflitto ha totalizzato 20.000 visitatori in 8 mesi.